Basta mezz'ora per uno screening gratuito al seno, la mezz'ora che può salvarti la vita. E' il messaggio forte e chiaro della campagna informativa sulla prevenzione del tumore al seno realizzata dall'ANDOS, Associazione Nazionale Donne Operate al Seno, sezione di Torino e presentata a Palazzo Lascaris in occasione della giornata mondiale contro il cancro su iniziativa della consulta femminile. Una giornata importante dedicata alla prevenzione con ANDOS, con il grande sostegno di Fulvia Pedani con un grande impegno da parte del Consiglio regionale del Piemonte e della consulta femminile. Pochi minuti di attenzione possono salvare la vita di una persona. Occorre curarsi per poter vivere felici e per poter dare il proprio contributo alla società. Un'iniziativa molto importante che noi vogliamo fare utilizzando le nostre donne perché sono le nostre donne operate al seno che hanno voluto portare un messaggio di sicurezza, di speranza, di efficacia delle cure e della prevenzione alle altre donne perché il programma di Screen è rivolto a donne sane. Noi vogliamo raggiungere le donne sane per trovare tumori molto piccoli, quindi guaribili. Grazie. Grazie.